L'ONU lo dice chiaramente, la violenza è generata da una storica disparità di potere controllo di un genere, quello maschile, sull'altro, quello femminile. Non possiamo stare neutrali di fronte a una cosa di questo tipo, ci dobbiamo alleare con le vittime e quindi tutta l'opinione pubblica, i privati cittadini, le istituzioni, tutti si devono alleare con le donne vittime di violenza, perché senza questa alleanza la violenza non può cessare. Benvenuti alla settima puntata di Background Voci sullo Sfondo. Ogni settimana un approfondimento su chi è in difficoltà, chi rischia di rimanere indietro, chi è più debole. Durante il lockdown c'è stata molta attenzione, anche a livello mediatico, sulle condizioni delle donne potenziali vittime di violenza domestica. Ne abbiamo discusso con Angela Romanin, formatrice della Casa delle Donne di Bologna e presidente del coordinamento dei centri antiviolenza dell'Emilia Romagna. Obbligate a restare in casa, molti hanno fatto più fatica a chiedere aiuto, nonostante le attività delle case rifugio e dei centri antiviolenza non si siano mai fermate. Come la pandemia, anche la violenza domestica non ha fatto distinzioni, colpendo e in modi e forme differenti. Le donne che ci contattano, coronavirus o non coronavirus, quindi prima, durante e dopo, sono appartenenti a tutte le categorie socio-economiche e culturali, quindi sono molto trasversali, non c'è un profilo particolare. Se vuoi proprio trovare una regolarità, magari sono di più le donne nella fascia di età tra i 25 e i 45 anni, perché sono quelle in cui più facilmente si fa una famiglia se hanno dei figli e allora si incappa di più nella violenza da parte del partner. Secondo i dati Istat, il 40% delle donne che subisce violenza non ne parla con nessuno. Per la rete dei centri antiviolenza, tra il 2 marzo e il 5 aprile di quest'anno, in Italia sono state 2867 le richieste di aiuto, il 75% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda Bologna, invece, solamente nel mese di marzo c'è stato un calo netto delle chiamate, poi riprese nei mesi successivi, come spiega Romanin. Abbiamo fatto un raffronto tra marzo 2019 e marzo 2020 e abbiamo notato questo dimezzamento delle nuove richieste d'aiuto. Però nei mesi successivi, gradualmente o sempre di più, man mano che si allentavano le misure imposte dal governo, di distanziamento per l'uscita, eccetera, le richieste adesso sono tornate allo standard precedente, quindi due, tre nuove richieste al giorno. Durante l'emergenza, il Ministero per le Pari Opportunità, oltre ad aver sbloccato dei fondi, ha sponsorizzato molto il 1522, il numero antiviolenza e stalking. Per l'Istat in Italia sono 5031 le donne che si sono rivolte al servizio. È il frutto della sensibilizzazione, che ha fatto emergere una parte del sommerso, ma per Romanin non è sufficiente. È piuttosto carente come servizio e fa un primo ascolto, poi non è che si tratta di prendere in carico le situazioni di violenza. Dovrebbe mettere in contatto la donna che chiede aiuto con il centro antiviolenza più vicino, ma questo nei casi che abbiamo contattato non è avvenuto. La piccola ricerca che abbiamo fatto come coordinamento del centro antiviolenza dell'Emilia Romagna e anche come casa delle donne, le donne inviate dal 1522 al centro antiviolenza sono state per due mesi zero. Uno dei grossi rischi per il futuro è che la crisi economica possa aggravare la situazione di molte donne. Per quanto non ci siano scuse, per quanto l'unica causa della violenza sia la volontà di praticarla, la mancanza di indipendenza economica è alla base di moltissime disparità di genere e rischia di allargare un fossato già esistente. Le donne hanno perso lavoro, pensiamo al fatto per esempio che molto spesso le donne lavorano, hanno piccoli lavori in nero, ovviamente durante l'emergenza è saltato tutto. Quindi le donne che hanno già l'esclusivo carico della cura dei bambini e della casa verranno ancora di più oberate su questo e anche questo fa parte delle dinamiche della violenza. Rimangono inoltre sul terreno paure, condizionamenti e ansie che impediscono a tante donne di trovare la forza per far emergere il loro caso. La consapevolezza di non essere isolate socialmente è per la Romanin una delle questioni decisive al fine della rottura della dinamica di violenza. Però noi sappiamo benissimo che sono circa massimo 10% le donne che subiscono violenza che fanno denuncia. Quindi è una piccolissima quota. Dobbiamo proprio allargare, aprire gli occhi un po' tutti quanti, allargare le possibilità di contatto delle donne che subiscono violenza perché abbiano un sostegno anche a livello di cittadinanza. Negli ultimi anni in Italia e a livello globale il velo sulla violenza di genere e sui femminicidi è stato squarciato. Movimenti di massa come Non Una Di Meno, attivati da donne ma partecipati anche da uomini, hanno sollevato la questione a tutti i livelli, contribuendo a una forte presa di coscienza collettiva sul tema, che ha risvolti non solo culturali e di lungo respiro, ma anche nell'evoluzione dei singoli casi. Infatti se vai a vedere dove emergono di più le situazioni di violenza, dove poi ci sono i centri antiviolenza, i movimenti delle donne che spingono per l'applicazione, per il trasformamento politico e culturale della percezione sulla violenza alle donne, questo è molto importante. Pensiamo all'impegno del Movimento Non Una Di Meno, che in Italia è forte da alcuni anni e che sta lottando a fianco dei centri antiviolenza. Loro hanno fatto, cioè il Movimento e i centri antiviolenza hanno fatto insieme un sacco di iniziative, per cui è più frequente adesso avere quello schieramento di parte, dalla parte delle donne che subiscono violenza, che è necessario quando affronti una disparità di potere e controllo così grande. Per molte donne la necessità di stare a casa si è trasformata in un vero e proprio incubo, ma è con la ripartenza che bisogna affrontare in maniera strutturale il tema delle violenze di genere, la cui stragrande maggioranza è praticata in casa. Investire nel welfare, sostenere l'indipendenza economica delle donne, dividere in maniera corretta la responsabilità del lavoro di cura è già un investimento contro la violenza domestica. I movimenti femministi degli ultimi anni si sono già dimostrati abili e capaci di agire sul terreno culturale e non solo. È ora che anche la politica cambi passo. Background Voci sullo sfondo è un progetto del Master in giornalismo dell'Università di Bologna a cura di Michele Mastandrea e Francesco Mazzanti. La musica della sigla è un campionamento di streets di Young Karts. Grazie a tutti! Grazie a tutti!